Siamo sul set della seconda stagione di Pesci Piccoli Anche se adesso sembra più un garage che un set Rispetto alla prima stagione quest'anno ci siamo divertiti ancora di più Dobbiamo aspettare un approfondimento dei personaggi sicuramente Delle linee molto fantasiose Anche questo e anche un po' di introspezione Quest'anno rispetto alla prima stagione andiamo anche un po' fuori l'ufficio Quindi vedremo anche l'ATI di Napoli che è giusto che si conoscano In un panorama di serie incredibili, serie bellissime, serie stupende, serie fantastiche E poi c'è la nostra Ciao, siamo i The Jagal, tecnicamente il cast di Pesci Piccoli Ciao, siamo i The Jagal e siamo sul set della seconda stagione di Pesci Piccoli Anche se adesso sembra più un garage che un set Siamo alla quarta settimana su nove Quindi in realtà siamo quasi a metà Però percepiti 12 anni 12 settimane al giorno 40 gradi all'ombra Ci dobbiamo aspettare un approfondimento dei personaggi sicuramente Delle linee molto fantasiose Anche questo e anche un po' di introspezione Perché quest'anno abbiamo indagato Aiuto, ma Sull'accettazione di sé L'accettazione di sé è il tema Vettore di questa Seconda stagione di Pesci Ciro? No, completamente d'accordo con Fabio Oltre ovviamente ad aspettarci tantissime risate Perché rispetto alla prima stagione Quest'anno ci siamo divertiti ancora di più Soprattutto nella quarta puntata Che è una puntata special Così come è stata nella prima edizione Nella prima stagione di Pesci Piccoli Ma non possiamo spoilerare ancora nulla Possiamo solo dire che è una puntata ambientata in una fanta agenzia Martina Tenirello finalmente rivelò alla stampa il suo più grande segreto Vengo da Torino, non vengo da Napoli E tifa Napoli E tifa Napoli, forza Napoli sempre È un coltello dietro Dietro di me Sa così, dillo, dillo Ho parlato meno degli altri Ma perché gli altri hanno detto tutto Hanno detto bene Aggiungo che quest'anno rispetto alla prima stagione Andiamo anche un po' fuori l'ufficio Quindi vedremo anche l'ate di Napoli Che è giusto che si conoscano A proposito la seconda stagione Lukaku al Napoli Grande acquisto, forza Napoli sempre, come direbbe Martina In un panorama di serie incredibili, serie bellissime, serie stupende, serie fantastiche E poi c'è la nostra, vedetela comunque Ciao Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti